Radio Ucifocus Le scelte variano molto da regione a regione, ad esempio al sud risalgono i consumi di zitti, orecchiette e pasta. Eterna poi la battaglia tra pasta lunga e corta, rigata o liscia, ma secondo una ricerca d'Oxa, Unione Italiana Food, la preferita è quella corta e rigata. Per consigliare al meglio i consumatori sull'abbinamento è stato lanciato anche un corso virtuale online con Pasta Discovery su willopasta.it con contenuti multimediali che spaziano dai talk ai consigli pratici, alla storia, scienza e cultura della pasta, alle guide ai test d'assaggio. Inoltre il progetto Pasta Discovery mette a disposizione dei più appassionati una mini guida di 10 ricette perfette in base ai vari formati di pasta. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UG